ciao a tutti questo video per parlare di chat di sexting che è una pratica molto in voga di questi tempi sia tra i giovanissimi che tra i meno giovani ma vediamo un po che cosa succede quando si fa sexting in chat quando sono gli uomini a chiedere appunto foto video messaggi e sexy e a sfondo sessuale alle donne con appunto la quale stanno accettando un consiglio che voglio dare a tutte le donne è quello di non farlo in quanto innanzitutto se gli uomini vogliono soddisfare questa loro parte magari visiva oggi come oggi ci si può rivolgere a tantissimi siti uno dirà beh non è come avere una persona quindi qualcuno una donna portata di mano che in pratica fa tutto quel che le si chiede di fare magari anche gratis no perché se si 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 rivolge ad altri siti magari appunto viene appunto chiesto un pagamento non corrispettivo allora perché non fare sexting soprattutto se sei già avanti con l'età ma comunque vale un po per tutte le donne intanto perché finirete per soddisfare tutta la curiosità di un uomo quindi non vi verrà mai chiesto di uscire insieme ma chi glielo fa fare vi ha già visto vi ha già conosciuto sa come siete fatte sa di che portata siete e quindi difficilmente un uomo che vuole chattare vuole fare sexting con voi in chat sarà un uomo che vi chiederà di uscire sarà un uomo che avrà considerazione nei vostri confronti e molto probabilmente le vostre foto faranno il giro di tutti i suoi amici e con voi parlerà male e di voi parlerà male e guarda quella lì e guarda che zoccola guarda cosa fa è una vecchia scema però mi fa divertire mi fa ridere e in un battibaleno praticamente tutti sapranno e vedranno le vostre foto magari in atteggiamenti poco piacevoli in atteggiamenti privati intimi quindi sappiate care donne che prima di scattarvi una foto e mandarla ad un uomo non dovete solo contare fino a 10 fino a 20 fino a 100 ma contare fino a 2000 e poi se non vi è passata la voglia di fare una fotografia e mandargliela ricontate di nuovo fino a 2000 questo per dire che serve a niente poco la seduzione non ha niente a che fare con la sessualità e la pornografia quindi sappiate non farvi prendere in giro dagli uomini e sappiate che tutto quello che farete potrà essere poi usato contro di voi e quindi chiare donne ci sono tantissimi modi per sedurre un uomo e magari sedurlo in chat sicuramente tra questi non è il sexting e in più un altro un altro consiglio che vi posso dare sempre da donna e quello di che se davvero vi interessa un uomo un uomo fuori dal web non siate prolisse nel parlare nel messaggiare nel raccontarvi troppo in quanto esaurirete molto velocemente e molto brevemente tutta la curiosità e l'interesse di un uomo nei vostri confronti quindi altrimenti poi se siete donne anche super maggiorenni no super over super over 40 50 tante volte non solo finite nel cadere nel volgare anche un po' nel patetico e soprattutto finite per fare un po' pena non un po' compassione essere un po' commiserate un po' essere usate e anche perché gli uomini usano il sexting solo per per divertirsi e per per vedere quanto potere possono avere su di voi anche solo tramite una chat con questo video è tutto un bacio dalla pink e invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto e abbonarvi potete appunto abbonarvi al canale della pink seduction dove diverrete moderatori moderatrici e sostenitori del canale potrete partecipare a tutte le live interattive con voi ciao a presto dalla pink